Buonasera, benvenuti, ben ritrovati nella nostra consueta tribuna politica. Il nostro contenitore è dedicato agli approfondimenti politici regionali, provinciali e non solo. Siamo a ridosso delle amministrative in provincia di Teramo. Tra i comuni importanti al voto c'è appunto quello di Atri. Stasera abbiamo il piacere di ospitare con noi il sindaco uscente Pier Giorgio Ferretti. Buonasera. Salve, buonasera a tutti. Abbiamo il piacere di ospitare con noi lo ospidante candidato sindaco, il dottor Affronzo Prosperi. Buonasera. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Intanto vi domando, siete solo voi due o potrebbe uscirne un terzo sindaco? Finora siamo solamente noi due, poi fino a quando insomma non si presentano le liste non si può mai sapere. Però penso che ormai la linea definita sia questa. Lei conferma? Si parlava anche del nome di Cellinese, del presidente Carmine Cellinese, si parlava di Marcone, insomma sono nomi che sono circolati. In momento confermo quello che dice il sindaco. Penso che le liste siano due e rimarranno due. Bene. Sindaco, su quali forze può contare? Cioè ai nostri di partenza le forze che la sostengono sono le stesse di cinque anni fa? È cambiato qualcosa? Beh no, è cambiato qualcosa nel senso che ci sono dei gruppi aggiunti che evidentemente hanno riconosciuto il buon lavoro nonostante il periodo del Covid abbia molto frenato tante iniziative e tante attività rispetto al programma iniziale che evidentemente però hanno riconosciuto il buon lavoro e che si sono aggiunti. Abbiamo sia gruppi civici e anche altri gruppi che hanno sostenuto altre liste cinque anni fa, anche gruppi corposi. Quindi mi riferisco a gruppi, ampi gruppi civici e al gruppo che poi si è costituito della Lega perché naturalmente la lista di cui io sono capolista è sostanzialmente una lista civica che ha candidati in lista di varie ispirazioni politiche sia di centrodestra che di centrosinistra però connotata maggiormente da sempre più nell'ambito del centro e centrodestra. Lei è sindaco appoggiato dai partiti centrodestra ma lei è civico o ha tessere di partito? Io sono civico, non ho tessere di partito ma sono appoggiato anche da gruppi civici, come ripeto, abbastanza corposi che poi si vedranno nel momento in cui ci sono le candidature. Senta, dottore, il sindaco dice che ci sono anche pezzi del centrosinistra, come mai non hanno appoggiato lei? Quali sono le forze che mi hanno appoggiato lei? Sinceramente non so quali siano le forze di centrosinistra che appoggiano il candidato sindaco Ferretti. Io so le liste, le forze politiche, i movimenti e le forze civiche che appoggiano la mia candidatura. È frutto di un lavoro molto lungo che... Lei è stato segretario del PD? Io sono stato segretario del PD per cinque anni, sono stato, sono consigliere comunale di opposizione da dieci anni. Sono iscritto al Partito Democratico da 2013, penso. È uno dei più longevi, come ha resistito? Sono uno dei più resistenti, sì, effettivamente. Dicevo che la nostra lista nasce da un lavoro molto lungo, importante, incentrato sui temi e sul programma di rinnovamento. C'erano altri nomi che avevano l'aspirazione a candidarsi al sindaco, hanno fatto tutti un passo indietro al momento della decisione ed è uscita la mia candidatura. Che io ho serenamente accettato, soprattutto perché proprio in questo momento storico, per la prima volta forse, si è raggiunta veramente l'unità. Cosa che era mancata nelle altre tornate elettorali, dove siamo andati sempre divisi e i risultati sono stati quelli che non ci hanno visti e vittoriosi. Senza, lei si ripropone, per lei è una candidatura bis forte, di quali risultati si propone ai cittadini atriani? Di quali risultati? I risultati, quelli raggiunti, naturalmente sono sotto gli occhi di tutti. Qui mi riferisco ovviamente ad esempio ad una struttura che in Atrier è stata chiusa per oltre 60 anni. Mi riferisco al Palazzo Cardinale Cicada, che oggi rivive in un quartiere che era un quartiere anche che viveva tanta difficoltà nella nostra città e che oggi è affollato quotidianamente da centinaia e centinaia di studenti. Una struttura di 8.000 metri che si è arricchita adesso anche di un centro servizi, del GAL, di una cantina dell'istituto agrario, oltre che del liceo sportivo e delle segreterie della confidenza. Questa data è un fatto ovviamente molto sentito perché fa parte di quell'opera di rivitalizzazione del centro storico che non si è certo ancora concluso, che ha visto anche il potenziamento dell'associazione giovanile con l'assegnazione di ulteriori spazi all'associazione studentesca che è tornata ad essere un punto vivo non solo per i giovani di Atri ma anche per i giovani di tutto il comprensorio e poi ovviamente la quasi definitiva costruzione del commissariato di Polizia di Stato che è quasi terminato, su cui l'amministrazione comunale ha fatto un grandissimo investimento perché oltre a un contributo regionale... Senta, ma è vero che siete riusciti a interessare il generale Robusto per questa operazione politica? Sì, allora, lì mi preme dire che intanto c'è stato un interessamento di tutta la città di Atri nel senso che poi la vittoria non è stata una vittoria tanto politica ma basta vedere gli Atri... Il Comune di Roseto è stata politica, diciamo... Soprattutto amministrativa e istituzionale su cui c'è stato l'interessamento di tutta la città e di tutte le forze politiche non ultime quello del Partito Democratico questo non ho nessuna difficoltà a dirlo anche nei confronti del mio competitor perché penso che il punto di forza di un sindaco sia anche di quello di porsi quando è per il bene della città anche con l'opposizione e si poi alla fine chi effettivamente ha snocciolato il tutto nel momento in cui non si riusciva a sciogliere una determinata problematica è stata poi il generale Robusto, ulteriore testimonianza che non è stata una battaglia vinta politicamente perché quella ovviamente non si può intendere politica perché è origine di altri, diciamo... Sì, c'è stata comunque l'iniziativa di tutti i partiti io sono stato più volte a Roma dei vertici sia con esponenti del centro-destra che con esponenti del centro-sinistra Lei, dottore, riconosce questi risultati per la qualità immaginiamo che si sia candidato a Roma Ovviamente ce ne sono altri di risultati Ecco, ci dica brevemente quali così facciamo... Per esempio il nuovo palazzetto a breve insomma riporteremo parecchie attività che oggi si trovano nel centro sportivo integrato una nuova palestra presso il Cardinale Cicada la riqualificazione della villa comunale insomma questo è per dire i maggiori l'opera con le altre istituzioni per la riapertura della 553 la definitiva conclusione della 553 sull'altri notareschi insomma è tanto altro che ora dovrei dire insomma perché poi sembra niente ma poi quando ci si volta indietro nonostante il Covid ripeto le cose sono state fatte Lei riconosce questi risultati C'è una preoccupazione sinceramente noi siamo preoccupati della situazione debitoria di questo comune la cosa ci preoccupa molto abbiamo attenzionato il comune con diverse interrogazioni il sindaco in prima persona perché noi pensiamo che ci sia un deficit strutturale cioè le entrate non riescono a coprire le uscite abbiamo attenzionato soltanto un piccolo settore cioè quello per quanto riguarda i servizi energetici e i servizi di raccolta della differenziata è venuto fuori un debito enorme una parte riconosciuta in bilancio ma non pagato perché non ci sono le risorse e una parte molto corposa di debiti fuori bilancio sinceramente questa situazione ci preoccupa sicuramente andranno intraprese le strade che devono strutturalmente ristrutturare questo debito altrimenti una strada lunga non l'abbiamo anche perché queste le nostre preoccupazioni sono le preoccupazioni anche del dirigente che dirige il servizio di regioneria che ha quindi è un po' preoccupato di prendere un comune che ha sul giudizio siamo preoccupati ma siamo motivati perché conosciamo la situazione e sappiamo anche come risolverla senta sindaco mi faccia fare la domanda politicamente un po' maliziosa naturalmente a questo devo rispondere però perché abbia pazienza naturalmente io sono stato attenzionato dopo che il partito democratico ha attenzionato in realtà l'ufficio ragioneria che ha dato una risposta poi hanno attenzionato il sindaco e l'assessore al bilancio che in questo caso sono comunque io perché quella delega l'ho tenuta ad interim però ecco ci tengo a dire proprio per tranquillizzare i cittadini che questa storia di questo maxidebito che denuncia il partito democratico in realtà è una maxiballa ecco la definirei proprio così nel senso che non è assolutamente vero che c'è tutto questo debito e c'è tanta confusione nel partito democratico perché prima parlava addirittura di 3 milioni di debito magari il comune di Atri avesse globalmente in tutto 3 milioni di debiti il comune di Atri ha un debito decisamente superiore ma comunque assolutamente sostenibile per quello che è il comune di Atri che ha un'entrata di 10 milioni di euro cioè faccio per dire che se il comune di Atri avesse un debito di 20 milioni di euro è come per una famiglia che ha uno stipendio di 1500 euro al mese avere un mutuo di 20 mila euro a 20 anni quindi non basta guardare quel numero a sé stando e sulle preoccupazioni della dirigente dell'ufficio finanziario sì ci sono delle raccomandazioni che sono raccomandazioni di routine che vanno fatti in tanti enti che vengono fatti in tanti enti ma c'è ovviamente una relazione del revisore dei conti di più revisori dei conti che ci sono stati nel corso degli anni e non ci sono assolutamente le condizioni per avviare una procedura di predistesto tanto che questa sarebbe raccomandata dallo Stato secondo determinati parametri di cui il comune di Atri su cui il comune di Atri non rientra cioè paradossalmente se il comune di Atri vuole avviare una procedura di predistesto nemmeno potrebbe farlo perché non ha quei parametri in ogni caso visto queste hanno fatto anche diverse note alla Corte dei Conti io sono in attesa anche di un'ispezione della Corte dei Conti per verificare se quello che dicono è vero gli ho preparato anche l'ufficio per dire che noi non abbiamo assoluta nessuna paura di confrontarci sull'inesistente debito che denuncia il Partito Democratico tanto che non è scoraggiato a farlo perché pensa che la condizione del bilancio non è affatto questa vogliono far credere la faccio replicare tra un istante senta Sindaco mi consento una domanda maliziosa ma lei è riuscita ad affrancarsi politicamente da Gabriele Astolfi si diceva sempre che lei si diceva sempre ce l'ha fatta ad affrancarsi adesso che si è affrancata Forza Italia da Astolfi lei viene più semplice come funziona? guardi quella è una domanda maliziosa ma se pensa di beccarmi in castagna è proprio sbagliato perché in realtà io non sono stato mai dipendente da Gabriele Astolfi è stato che è chiaro che Gabriele Astolfi ha provato a essere un po' invadente ha subito un po' l'invadenza Gabriele Astolfi è in generale una persona invadente quindi come se non ci ha provato ma anche una persona è estremamente rispettosa e devo dire che nei confronti del sindaco e della figura di sindaco è estremamente rispettosa infatti quella diceria e quella voce che c'erano all'inizio del mandato ora non l'ho sentita più io ma scommetto che nessun atriano nessun cittadino atriano lo direbbe più non penso che questa sia attualmente già da anni una voce che giri più in atri a dimostrazione del fatto che evidentemente se qualcuno pensava che non fosse affrancato poi oggi deve ammettere sicuramente che non è così ma che in realtà non è stato mai così ma perché se ne è liberato perché era troppo preoccupato per la surroca era per la surroca perché non c'è stata nessuna necessità di liberarmene senta lei comunque è un veterano del PD e dobbiamo dire insomma lei è un veterano del PD anche quando non era in acqua proprio rose diciamo ad atri lei come si districa tra le varie anime del PD c'è la corrente la corrente d'Alfonso la corrente adesso Fina la corrente Lennini lei di che corrente è? dicono che lei è un uomo di Mariani è così? io sono molto amico di Sandro Mariani questo sì Mariani è del PD? c'è un'amicizia secondo lei? penso di sì credo proprio di sì sicuramente lo è stato è un uomo che ha quella appartenenza persona molto seria e stimata che ammiro profondamente alla quale sono legato da un'amicizia veramente importante sulle correnti? io nessuna corrente lei si metterà il parlo dagli spiff io sono del PD quindi non amo le correnti quindi un uomo di partito temo il mal di gola quindi ho pensato all'alto e quindi senta a proposito di correnti lei fa l'uomo di partito ma quindi ad esempio per queste elezioni provinciali no? che ci sono insomma ho visto una politica molto insomma dalle porte girevoli lei ha fatto l'uomo di partito ho fatto l'uomo di partito cioè chi ha votato? ho fatto l'uomo di partito quindi ha votato Piccioni ha votato Piccioni lei sindaco? io non ho votato Vagnoni ma questo comunque a prescindere dalla candidatura a sindaco poco c'entra perché questi comunque sono fatti politici che soprattutto sono i partiti oggi però siete chiamati anche voi amministratori sì sì oggi abbiamo un nuovo presidente della provincia e naturalmente con lui collaboreremo per ogni tipo di iniziativa che dovesse interessare anche perché è un sindaco e io penso che quando una persona ha fatto il sindaco poi riesce bene a staccarsi da logiche che potrebbero diventare insane sono convinto che Camillo D'Angelo saprà fare per tutto il territorio provinciale ma che idea vi siete fatti diciamo di queste controguerriglie diciamo incrociate controguerriglie noi che abbiamo votato siete stati un po' tirati per la giacchetta tirati per la giacchetta guardi la giacchetta non è ci fa caso assolutamente non è non è non è a lunga tutti siamo stati tirati in ogni competizione elettorale ci si viene tirati per la giacchetta o tiriamo per la giacchetta nel momento in cui siamo candidati il dottor profe li sto telefonando a tanti dei miei elettori ma poi me la vengono a dire insomma non le fare queste figure non è vero non è vero io per tornare il dottor Prosperi ho chiesto telefono a tanti i miei elettori ma io mi dico non le fare queste figure la campagna elettorale però vorrei raccontare ai nostri telespettatori un aneddoto se mi consentite sindaco no diciamo questo lo dico ai telespettatori per curiosità diciamo fuori dai microfoni appena siamo arrivati il sindaco Ferretti ci ha detto che il dottor Prosperi gli ha salvato la vita addirittura sì nel senso ha avuto l'occasione per ammazzarmi ma perché mi ha operato infatti anzi confermo che è un ottimo medico invece lo inviterei a continuare a fare il medico lei quindi come dire si vuole vendicare adesso non è riuscita a farlo assolutamente cioè l'ho aiutato in un momento particolare della sua vita come faccio con tante altre persone e quindi questo è il mio lavoro e lo faccio con passione senta Ferretti torniamo un attimo alla malizia politica poi dopo andiamo a più settimane amministrativi prima ho fatto appunto la battuta al dottor Prosperi chiedendo appunto se è vero il suo padrino politico è Sandro Mariani lei ha un padrino politico perché si dice il fatto che lei si subiva un po' come dire le ingerenze di assolfi però il fatto che lei non abbia un padrino politico ha messo Atri in una condizione un po' di isolamento politico dal circuito provinciale e regionale lei sente ma questa è una una grandissima è una grandissima sciocchezza è una grandissima diceria perché mi dovrebbero dire che cosa sarebbe cambiato se io avessi avuto un padrino politico peraltro io sono un tipo che non ha assolutamente padrini e che non riconosce padrini nel senso che quando c'è da lottare per la mia città penso di averlo anche dimostrato l'ho fatto sempre ma certa è la filiera politica anche in maniera energica una cosa è certa è che la città di Atri questo va detto perché è noto che io nelle scorse regionali ho appoggiato con grande forza la candidatura di Gabriele Astolfi è chiaro che se ci fosse stata quella elezione oggi la posizione di Atri ma non solo di Atri ma di quel comprensorio più ampio che comprende anche Pineto e Silvi oltre diciamo a tutta la parte retrostante le località della Vallata del Fino e del Vomano quindi di Cellino di Cermignano se vogliamo anche di Notaresco e Morrodoro sarebbe sicuramente molto più forte politicamente quindi è colpa di Astolfi avverso perché sappiamo soprattutto di chi non gli ha votato nel senso che comunque li hanno votato in tanti a Astolfi li hanno votati in tanti però insomma non è stato sufficiente e sappiamo che cose accade di Ferretti penso di Ferretti ho chiesto se sarei votati di Astolfi di Gatti di chi erano i voti ma ne hai pensato che i voti di Gatti non ci sono stati lì ah non ci sono stati ok giustamente è vero c'era stato anche un qualche chilocchio qui procuò ne hai pensato però non riesci a mettermi in difficoltà anche se lei dottore è esposta politicamente abbastanza dalla parte del dottor che non le riesce bene Gatti alla precedente elezione fu votatissimo ad altri sì ma in mezzo ai consensi sì invece secondo lei serve la filiera politica? beh sì assolutamente sì avere un referente politico a tutti i livelli è sempre importante io penso confrontarsi sporre i problemi e cercare di risolvere i problemi è fondamentale avere il referente in ogni posto ti può dare il consiglio giusto al momento giusto quindi senta non sente diciamo si dice che la sua candidatura è un po' fragile per il fatto che lei viene da Fontanelle di Atri e quindi come dire diciamo questo anche in passato insomma c'è sempre stato il problema delle frazioni di Atri che peraltro è anche una frazione insomma un po' come dire in antagonismo con Casoli cioè che comunque è più spostata verso il centrodestra lo sbaglio sindaco conferma lei questa lettura ma io non non penso che il problema sia un candidato di azioni semmai deve rispondere lui o devo rispondere no 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 sì un attimo solo facciamo rispondere al dottor Prosperi un attimo beh io penso che di essere il candidato del territorio di Atri ma lei vive a Fontanelle o a Rosetta? io vivo a Fontanella io sono nato ad Atri vivo a Fontanelle e lavoro da 30 anni all'ospedale San Liberatore quindi sono un rappresentante del territorio atriano ne faccio quindi parte decisamente però diciamo spesso Casoli nelle elezioni di Atri è stata insomma determinata Casoli è un feudo forte della centrodestra quindi lei non teme questa no assolutamente io sono un cittadino atriano sicuramente hanno sempre votato io ho sempre preso più voti ad Atri che nel mio nel mio seggio di Fontanelle quindi non penso ci siano difficoltà i cittadini i cittadini sono persone intelligenti non credo che caschino in questo cadano in questo giochetto stupido di dividere è un giochetto che fa solo danni questa è una stupidaggia Sindaco lei conviene con questa attura oppure sente che c'è questa fragilità da parte del suo rivale non penso che essere un candidato delle frazioni sia un punto di debolezza il punto di debolezza semmai se posso aggiungere ora qualcosa del dottor Prosperi che è vero che ha lavorato per 30 anni nell'ospedale San Liberatore il fatto è che non ha vissuto Atri cioè di fatto non ha mai partecipato iniziative culturali e sociali di nessun genere però il fatto che un candidato sindaco sia di una frazione io non penso che questo sia in generale un punto di debolezza Sindaco ad esempio invece per quanto riguarda i punti di debolezza che le vengono attribuiti mentre al dottor Prosperi viene attribuito il fatto che è appunto di una frazione a lei viene attribuito il fatto che lei è diciamo in qualche modo monocorde sull'argomento della scuola cioè nel senso riconduce tutta la scuola magari magari questo si viene dal mondo della scuola ricordiamo sì io vengo dal mondo della scuola e con tanto sacrificio e impegno ho dato un grosso contributo alle istituzioni scolastiche atriane che insomma erano vivevano delle grosse difficoltà nel senso che oggi il liceo l'istituto superiore non ci sarebbe più questo dicono le statistiche e i nulli cosa che sarebbe finito poi invece c'è stato un grosso potenziamento quando ero assessore alla pubblica istruzione lì con un grande investimento anche in termini di risorsa umana proprio per il legame con la città poi da quando sono sindaco non sono più monocorde anzi la scuola è stato l'ultimo dei miei pensieri devo dire quindi anche questa torna a essere una diceria è certo che oggi alla scuola bisogna pensare perché quel patrimonio che si è costruito e che è motivo di orgoglio anche per la nostra città che oggi accoglie studenti da ogni luogo tantissimi anche dalla provincia di Pescara e che ha aperto anche i giovani i giovani di Atri con un confronto anche superiore dire che cosa è stato che cosa è rappresentato quella crescita ci vorrebbe tanto tempo per dirlo che io naturalmente difendo in ogni modo e che bisogna ulteriormente sfruttare e integrare proprio all'interno della città però dire che sono monocorde guardi chiunque lavori in comune per lei sarebbe un bravo assessore alla scuola meno da sindaco ma così lo dicono quelli del partito del partito democratico io non te l'ho mai detto questo basta vedere però chi è stato per la verità anche altri consiglieri di opposizione consiglieri di opposizione ma oggi si candiderà quella che era assessore alla pubblica istruzione fino a prima che prendessi la delega speriamo che in caso di vittoria del dottor le cose non tornino ad andare come allora perché vorrebbe dire perdere le scuole ad Atri perché questo era allora ci fermiamo un attimo per qualche istante per una breve pausa pubblicitaria qualche minuto rimanete con noi teniamo sui temi amministrativi qualche minuto bene ben ritrovati nella nostra tribuna politica quest'oggi abbiamo ospiti con noi il sindaco uscente di Atri per Giorgio Ferretti abbiamo il candidato sindaco sfidante di Atri Alfonso Prosperi stavamo parlando appunto di temi politici però ecco arriviamo un attimo anche un po' ai temi amministrativi volevo chiedere insomma entrambi i nostri candidati qual è la vostra posizione sul coinceneritore di cui si sta insomma parlando ancora in questi giorni sindaco vabbè sul coinceneritore l'amministrazione comunale si è detta contraria l'ho già fatto in tutti i modi sulla stampa e non solo a voce ma anche con atti amministrativi ricordiamo che cos'è sì il coinceneritore nella frazione di Casoli o meglio in una porzione di territorio più delimitata dove c'è la zona industriale quindi nella zona della Stracca c'è una ditta che ha intenzione appunto di costruire un coinceneritore finalizzato a poi a fare energia ora la terminologia tecnica con appunto bruciando gli elementi e gli scarti poi della ricomposizione energetica e voi siete contrari perché? Naturalmente la contrarietà deriva dalla verifica di tutte quelle che sono le condizioni legate all'ambiente e soprattutto alla salute dei cittadini nel senso che l'attenzione ovviamente e su questi temi il comune di Atri l'amministrazione comunale di Atri ha già nominato un legale che poi è lo stesso legale che ci ha seguito tutta la lotta per quanto riguarda l'ampliamento della discarica e poi un tecnico il tutto proprio finalizzato a capire a comprendere ad avere il massimo confronto con quelli che sono poi gli enti deputati dell'Arta e della ASR proprio per capire quali ne siano i rischi e quindi annullarli completamente e qualora ci fossero appunto evitare evitarne la costruzione Dottore voi invece cosa ne pensate relativamente a questo argomento abbiamo anche questo problema della discarica che non è mai stata bonificata abbiamo un vafino insomma è un problema del coinceneritore è un problema serio noi ci siamo posti da subito in una posizione di contrarietà per un motivo molto semplice il coinceneritore come diceva il sindaco praticamente produce energia dai prodotti di scarto che produce un'azienda un'azienda l'azienda in questione questi prodotti di scarto che vengono definiti rifiuti non pericolosi R1 classificati come R1 diciamo non sono effettivamente non pericolosi perché un componente fondamentale di questo prodotto di scarto è la formaldeide che è un prodotto estremamente tossico infatti l'altra sera c'era un epidemiologo dell'università di Milano collegato in remoto che ha spiegato un po' e ha fatto lo studio epidemiologico della questione e praticamente si è visto che effettivamente dove ci sono queste forme di inceneritori c'è una aumentata incidenza di malattie respiratorie e soprattutto aumentata incidenza di tumori del trattorino faringeo siamo contrari per questo quindi per la tutela della salute perché la stracca non è soltanto una zona industriale c'è un centro abitativo importante e soprattutto c'è un'economia agricola fondamentale lì abbiamo la migliore zona la più alta vocazione agricola del comune di Atri e su quei terreni ci sono coltivazioni ortofrutticole e coltivazioni biologiche vitivinicole zootecniche che avrebbero un impatto anche economico importante se dovesse partire il funzionamento del coinceneritore siamo contrari per un problema di salute e anche per questo altro quindi quantomeno su questo siete allineati per quanto riguarda invece la sanità Atri è sempre stato un presidio importante dal punto di vista ospedaliero adesso si parla di ospedale unico a Teramo è impensierito diciamo dalla nascita di un eventuale ospedale unico a Teramo cioè quale futuro vede per il presidio della società naturalmente un ospedale unico a Teramo è chiaro che andrebbe sicuramente a limitare quelli che sono i presidi ospedalieri periferici per quanto l'ospedale l'ospedale di Atri l'ospedale di Atri è un ospedale che su questo devo dire che c'è molta polemica e una diversità di posizione in generale con l'opposizione nel senso che l'ospedale di Atri si continua a reggere sostanzialmente oggi su quattro chirurgie che sono quelle che ci sono ormai di diversi anni che sono la chirurgia l'ortopedia che sono UOC unità complesse quindi con presenza di primario poi chiaramente il reparto di oculistica e quello di urologia che è rimasto UOSD e che è stata riassegnata proprio da circa due mesi mi pare di capire con il responsabile del dottor Narcisi poi ovviamente sulla medicina e sulla lungodeggenza chiaramente oltre ovviamente al pronto soccorso e tutta una serie di altri servizi è chiaro che ci sono stati negli ultimi anni ma in realtà da sempre io da quando sono nato che ricordo sempre le polemiche e le problematiche del presidio ospedaliero ci sono state delle preoccupazioni secondo lei le problematiche e questa è una domanda che faccio entrambi sul presidio ospedaliero sono state in qualche modo collegate anche alla presenza della dottoressa Mattucci c'era un legame diciamo politico al fatto che l'ospedale il presidio era guidato dalla dottoressa Mattucci comunque persona forte politicamente anche ma guardi se noi pensiamo diciamo all'ultimo decennio il grosso ridimensionamento che ha avuto il comune l'ospedale di Atri è quella della perdita del punto nascita poi per il resto grosse perdite effettivamente ci sono state o meglio ci sono state alcune perdite ma anche alcuni potenziamenti perché se è vero come è vero che negli ultimi due o tre anni ci sono stati ad esempio dei problemi sulla pediatria in cui il reparto è stato perso H24 ma c'è un servizio H12 però sono tutti problemi interconnessi anche all'evoluzione dei tempi cioè nel senso che i quattro reparti chirurgici hanno il problema legato agli anestesisti ma gli anestesisti purtroppo non ci sono sì sì ho capito lei dice un problema in generale il problema dei pediatri i bambini non ci sono più i pediatri ad avvisi fatti non ci sono pediatri che rispondono il problema dei medici di pronto soccorso nonostante ancora tanto ok ok lei dice in qualche modo diciamo i cambiamenti sono stati un segno dei tempi in qualche modo ok lei dottore la pensa allo stesso modo a parte insomma poi abbiamo l'eccolle a Sandra Mariani del suo nuovo ospedale insomma intanto le chiedo è vero che diciamo in qualche modo con la Mattucci io per quanto riguarda la Mattucci è stata direttore sanitario nel nostro ospedale ma è stato un direttore sanitario eccellente che si è fatto sempre rispettare si è fatto rispettare anche quando è stato direttore sanitario di azienda poi sulla sua potenza politica non proferisco parola perché non la conosco la sua potenza politica no intendo dire se in qualche modo le scelte politiche sull'ospedale Gatti sono state collegate le scelte politiche sull'ospedale Gatti sono state fatte in maniera scellerata negli ultimi tempi la chiusura del punto nascita che è una cosa che ha detto il sindaco Ferretti nasce da una decisione della giunta Chiodi parte da una decisione della giunta Chiodi che poi diciamo è stata attuata durante la consigliatura di Luciano D'Alfonso nonostante tutto il presidio ospedale di Atri è riuscito sempre a reggere e diciamo che nel periodo pre-covid noi eravamo il sesto dati dell'Agenas sono dati miei personali dati Agenas eravamo il sesto presidio ospedaliero d'Abruzzo dietro soltanto i quattro hub che giustamente fanno più prestazioni perché hanno più reparti più servizi eravamo Avezzano ed Atri dopo il covid dove noi abbiamo profuso un impegno notevole noi siamo stati i primi ad essere chiusi completamente e a cambiare completamente lavoro avevano promesso il potenziamento avevano promesso il rafforzamento e invece abbiamo perso la pediatria la cardiologia l'urologia è sempre un servizio H12 non c'è reperibilità non c'è nulla non fa più chirurgia che faceva prima del covid perché prima aveva otto posti letto in chirurgia adesso non li ha più fa soltanto servizio di esagio capisco che il momento generale è complicato perché c'è carenza di medici perché c'è carenza di medici in generale di tutte le branche specialistiche soprattutto per quanto riguarda l'anestesi e la reanimazione noi soffriamo di questa cosa tantissimo perché l'ospedale di Atri è un ospedale che ha lavorato sempre sul programmato le urgenze sono state fatte sì ma non erano tantissime come devono essere fatti in ospedali più grandi però abbiamo sempre lavorato tantissimo questa situazione ci mette in grosse difficoltà lo chiedo al medico che però è candidato e diciamo fa politica la politica dovrebbe stare lontana dalla sanità a suo avviso no la buona politica può stare bene con la sanità la cattiva politica no che cosa intende lei per buona politica la buona politica quella che dovrebbe essere equilibrata equilibrata il problema è che purtroppo che conosce le problematiche della sanità che conosce come si programma la sanità purtroppo noi abbiamo un problema nazionale che è anche la scelta del manager nella scelta del manager il requisito di programmazione e di gestione di programmazione sanitaria non è un requisito fondamentale che è una cosa importante secondo me secondo lei insomma tanta politica si è giocata sul destino dell'ospedale di Atri Sindaco no io non credo perché torno a ripetere il problema è proprio la carenza di medici confermata anche dal dottor Prosperi cioè proprio in alcune branche non ci sono medici i rianimatori anestesia e rianimazione non ci sono medici per quanto riguarda i medici di pronto soccorso ma voglio fare gli avvisi non ci sono ma d'altronde se il pronto soccorso di Atri che ha subito dove veramente nonostante c'è la nomina di un nuovo ottimo responsabile ma ci sono capitato pure io è difficile veramente andare in pronto soccorso ma se c'è tanta utenza della provincia di Pescara vuol dire che funziona comunque meglio rispetto a quello di Pescara cioè figuriamoci che cos'è fuori e comunque non ci dimentichiamo che poi l'ospedale di Atri è vero come diceva il dottor Prosperi che ha subito negli ultimi anni delle perdite ma ci sono state anche delle accelerazioni perché c'è stato anche un potenziamento è vero che non è stato sotto l'aspetto chirurgico ma sotto l'aspetto medico ma il nuovo reparto di riabilitazione respiratoria accoglie tantissimi utenti anche da fuori regione essendo un potenziamento dell'area medica non è che per questo si può dire che non vale come tale l'attacca a 128 strati non è vero che è poco diversi medici sostituiti perché poi ad Atri quando se ne va un medico sembra automaticamente che un reparto è chiuso così successe quando se ne andò il dottor Capone dopo due mesi è stato ordinariamente sostituito oggi da un ottimo responsabile se ne andò i responsabili del pronto soccorso sembrava che il pronto soccorso non ci fosse più perché dopo così viene vissuto ad Atri ma sono il dottor Lanni è altrettanto forte anzi siccome sono il sindaco di Atri per quanto mi riguarda l'ospedale di Atri è l'ospedale migliore del mondo voglio dire che l'attuale responsabile è migliore anche di quello che se ne è andato se ne è andato il dottor Raggiunti è stato bandito il posto non è se ne è andato il dottor Raggiunti sembrava chiuso l'ospedale di Atri cioè sembrava che la sera alle otto si sarebbero messi i sigili si sta facendo il concorso per sostituire il dottor Raggiunti è stato sostituito il responsabile del pronto soccorso è stato acquistato un'attacca a 128 strati ogni volta che accade io però queste cose non le dico perché se poi si dice di un miglioramento che c'è sotto inevitabilmente nascono delle polimiche che alle volte sviliscono l'ospedale di Atri che è invece un ospedale che continua grazie anche al sacrificio degli operatori questo va detto sempre non ultimo quello del dottor un ottimo medico riconosciuto la salvata vita se ricapita sotto i ferri se ricapita sotto i ferrici mi risalverà perché lui ha seriamente fatto il giuramento di Ippocrite l'ha fatto con grande serietà lei diciamo condivide questa narrazione cioè nel senso il fatto che c'è questa narrazione che quando va via un medico sembra che l'ospedale chiude oppure questo penso che sia un fatto generale quando vanno via personaggi del calipo di raggiunti che hanno formato che hanno creato dal nulla un servizio di endocrinologia così importante penso che abbia una valenza regionale anche a livello regionale è normale che si possa avere un attimo di sconforto però io conosco benissimo i colleghi che stanno lì che lavorano che lavoravano con lui sono assolutamente persone professionisti validi lavorano tantissimo anche loro e diciamo che assicurano il servizio brillantemente come la storia che veniva assicurata ai tempi del dottor raggiunti questo sì Sindaco diciamo Atri ci risulta che stia quasi scendendo sotto i 10.000 abitanti diciamo quando comunque ecco nei tempi d'oro insomma comunque non si è mai scelto sotto i 12.000 che cosa più o meno che cosa sta succedendo comunque cioè prima era in qualche modo un vari centro culturale importante adesso sembra sia un po' più appannata a favore insomma dei centri della costa esatto certo magari non sarà sicuramente colpa sua però insomma in qualche modo sente la responsabilità di questa allora 12.000 abitanti no parliamo veramente di epoche penso antecedenti agli anni 60 nel senso che Atri diciamo dal 1970 ora non vorrei sbagliare è stata sempre tra gli 11.2 e gli 11.3 poi in realtà proprio il capoluogo su cui il problema è estremamente più sentito scende da tantissimi anni perché se poi siamo rimasti fino agli anni ai primi degli anni 2000 sempre tra gli 11.2 e gli 11.3 ma alcune frazioni che comunque sono distanti dal capoluogo e quindi Fontanella e Casoli avevano raddoppiato la loro popolazione di fatto il capoluogo aveva già perso tanta popolazione su cui ripeto il problema è estremamente più sentito ora quali siano i problemi interconnessi al calo della popolazione ci sarebbe bisogno insomma di un di un esame estremamente attento si dice sempre che è la carenza di lavoro io non penso che sia la carenza di lavoro nel senso che è una concausa ma non è la concausa principale se ripensiamo ad esempio alla scuola all'estrema crescita all'estrema crescita il PIL no a PIL ah scusi a PIL se noi pensiamo ripeto alla grossa crescita della scuola c'è stata la crescita di quasi 300 docenti ecco di questi poi quelli che hanno scelto di prendere casi in affitto l'hanno preso su Pineta e Silvio non su Atri perché ad Atri non si trova non c'è la possibilità di locare ci sono tante case in vendita tantissimi ad esempio nel centro storico dove i problemi del centro io non me ne andrei mai dal centro storico però i problemi del centro storico mentre i vantaggi non si capiscono cioè che tu puoi mandare il bambino di 5 anni in piazza senza accompagnarlo e senza nessun problema ad esempio quello che vede la gente chi dovrebbe venire ad Atri che non ha il parcheggio sotto casa non ha il garage la ristrutturazione è estremamente onerosa nel senso questi sono tutti problemi ovviamente correlati allo spopolamento però per fare un'analisi di una città che non è vero che perde appigli io su questo avrei qualcosa da ridire nel senso che è vero che c'è questo caro della popolazione ed è vero che anche se negli ultimi anni ci sono diversi immigrati dai comuni dai comuni limitrofi che invece anche la costa adesso sta calando sia Silvi Peppi che Pineto Pineto era salita sopra i 15.000 ora sta calando è chiaro che l'evoluzione dei tempi porta verso la costa nel senso è anche un fatto culturale però ecco sul fatto che per da Pir perché comunque Atri non è una città come molto spesso si dice non è una città morta Atri non è una città che muore è una città viva insomma un po' durante tutto l'anno sia nel corso estivo per tutta una serie lì il merito all'amministrazione comunale penso che sarebbe onestà riconoscere nel senso c'è un'estate molto ricca di iniziative di iniziative che vengono riconosciute anche a livello provinciale e anche d'inverno non muore insomma con la stagione teatrale con le istituzioni scolastiche e una moltiplicità facciamo di tutto per incentivare la vivacità lei condivide questa fotografia intanto diciamo se non erro lei ha proposto in qualche modo forse dei parcheggi io dico questo innanzitutto lo spopolamento è un dramma veramente che stiamo vivendo è progressivo fra brevissimo scenderemo sotto i 10.000 abitanti con tutte le problematiche legate a comuni che scendono sotto i 10.000 abitanti e questo è un problema grave soprattutto per la identità del nostro paese e soprattutto perché la dice lunga sullo stato d'abbandono e forse su scelte politiche sbagliate nel 2008 ci fu un proclamo elettorale di qualcuno che disse che avrebbe portato Atri a 15.000 abitanti la cosa non è avvenuta anzi penso quando si è candidato Gabriele Astolfi quindi è una trovata elettorale ci può anche stare però non si è fatto niente per bloccare questo progressivo spopolamento sicuramente la crisi economica ha peggiorato la situazione l'aver perso aziende importanti il sindaco non l'ha ricordato ma noi abbiamo perso due aziende importanti come la Sib e come gli Etsy Cucine che occupavano tantissime persone quindi non aver incentivato nuove attività di questo tipo ha portato a perdere abitanti Atri è una città dove praticamente i giovani vanno via e non tornano più questo è un dato di fatto che cosa bisogna fare innanzitutto fare una politica per i giovani quindi trovare qualcosa che riporti i giovani che faccia rimanere i giovani adatti e soprattutto bisogna rivitalizzare il centro storico il centro storico è una cosa angosciante ha i negozi chiusi serrande abbassate il sindaco dice che è una città viva però io non penso sia così se si gira verso le otto di sera sembra quasi una città una città spettrale ma io penso che bisogna quindi invertire bisogna cercare di rivitalizzare il centro storico con degli investimenti sulle abitazioni ingentivazioni sulle abitazioni sul commercio sulle attività turistiche cercare soprattutto finanziamenti fare progetti su quale per poi accedere a finanziamenti importanti e finalmente dotare in aree adeguate atri di un parcheggio perché il problema fondamentale di atri penso sia il parcheggio accedere al centro storico non perché lamentava il fatto che il comune non aveva fondi i finanziamenti fortunatamente possono essere presi ci sono i finanziamenti del PNRR ci sono tantissimi finanziamenti che possono essere presi e sfruttati per dar luogo a infrastrutture di questo tipo sindaco brevemente perché siamo quasi in futuro ma è un attimo mi tocca replicare perché intanto il dottor Prosperi dice che il problema di atri è quello del parcheggio però contemporaneamente dice che è una città deserta ma se è una città deserta chi ci deve parcheggiare lei ha detto che la gente non viene ad atri perché non ha il parcheggio io dico che bisogna pensare a fare i parcheggi comunque per quanto riguarda il parcheggio può stare tranquillo perché lo abbiamo già finanziato nel senso che noi abbiamo recepito e risposta a tanti finanziamenti ora ne abbiamo due che è uno per la nuova scuola media di 5 milioni di euro dove sarà presente anche un parcheggio proprio a ridosso del centro storico e uno per circa 50 posti proprio su portamaceri quindi anche quello a ridosso del centro storico quindi il problema del parcheggio lo può considerare praticamente risolto con questa amministrazione naturalmente poi sarà costruito nella prossima poi ecco per quanto riguarda le attività chiuse è vero che le sono state diverse il candidato sindaco dice al di là della vivacità culturale però non sono state fatte delle politiche che incoraggiossero le aziende a rimanere le aziende a rimanere non è che quelle aziende allora intanto sono nati circa 30 o 40 B&B negli ultimi anni e quello non mi sembra poto sotto l'aspetto della ricettività ultimamente ha anche riaperto l'hotel du park perché se è responsabilità della chiusura se è mia responsabilità della chiusura se è mia responsabilità quando piove allora è merito mio anche quando esce il sole abbiate pazienti allora voglio dire che quelle di cui faceva riferimento il dottor Prospin non è che si sono trasferite e che purtroppo hanno chiuso per motivi legati alla crisi ma allora è merito mio se la Iezzi Cucine Componibili le due strutture sono state riacquistate tutte e due ora da una parte aprirà un un supermercato con degli altri piccoli negozi e dall'altro la mobil centro quella attorno alla rotonda è stato pure riacquistato la struttura di Riezoni è stata riacquistata in parte ma allora scusi allora ci sono l'amministrazione comunale allora la Menozzi è stata completamente riacquistata 7000 metri non è che questi che l'hanno acquistato l'hanno acquistato per tenerli chiusi ok 15 secondi appello al voto poi se colpa mi è anche della vittima della crisi l'appello al voto l'appello al voto l'appello al voto è ancora presto per proseguire quello che abbiamo iniziato e che non ho potuto concludere per i motivi legati da un lato alla burocrazia ma sicuramente alla presenza del covid perché i cittadini sanno quanto mi sono immerso e mi sono impegnato proprio nell'ambito della gestione del periodo covid e quindi per continuare con quello che è stato iniziato e per poterlo concludere nel migliore dei modi Prosperi io penso che bisogna cambiare assolutamente rotta e quindi perché i problemi sono tanti ne abbiamo parlato questa sera i problemi che non sono stati assolutamente risolti dalle precedenti amministrazioni quindi bisogna cambiare un'amministrazione e quindi invito i cittadini atriani a votarci ed avere fiducia perché noi possiamo ridare la speranza e ridare un futuro a questa città bene dottore grazie io ringrazio il sindaco ringrazio voi ringrazio il sindaco Pier Giorgio Ferretti ringrazio il dottor Alfonso Prosperi buona campagna elettorale buona serata buon proseguimento a tutti voi ci vediamo sempre lunedì prossimo sempre alle menti con la tribuna politica buona serata grazie 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 per la visione!